ciao a tutti eccoci qua per questo nuovo video oggi sarà il primo video di una playlist che creerò appunto per la preparazione al viaggio caponord oggi vi voglio parlare come capirete un po da titolo di una cosa che mi servirà un po per i pagamenti soprattutto comunque all'estero visto che comunque ho avuto non dico difficoltà però volevo qualcosa di un po più comodo e che mi desse la possibilità di controllare tutti i movimenti e tutti i pagamenti che facevo in tempo reale quindi ho deciso per questo per questo anche per questa ragione di farmi arrivare questa ovvero una carta di credito una carta prepagata questa carta prepagata è la carta prepagata di revolute è comunque un'applicazione una comunque una banca che ha sede in regno unito in gran bretagna che comunque è una di quelle carte prepagate carte di credito che comunque sta andando per la maggiore in questo momento infatti ci sono anche molti altri video su youtube che parlano di questa carta come tante altre carte c'è non solo la n 26 mi pare c'è la hype tutte tutte queste tipologie di carte di credito io ho preso questa perché comunque informandomi ho scoperto che a livello di costi di cambio valuta non ne ha infatti io andando in norvegia in norvegia svezia finlandia dove comunque c'è la corona soprattutto in norvegia e svezia c'è la corona e bisognerebbe cambiare appunto la valuta con questa carta vi permette di pagare in valuta straniera senza costi quindi non ci sono costi questa qua che ho preso io adesso la farò vedere è la carta standard che ha solo il costo di spedizione che 5 euro e 50 qualcosa del genere per farvela spedire ma poi è completamente gratuita ha meno funzioni delle altre carte ci sono tre carte questa qua è a costo zero le altre costano mi pare una 4 euro al mese un'altra 14 una cosa del genere comunque se volete c'è il sito c'è l'applicazione che potete andare a controllare e ci sono tutte le informazioni necessarie quindi l'ho presa appunto per il cambio valuta l'ho presa perché comunque ti dà la possibilità di avere in tempo reale tutte le spese che fai tutte tutti i pagamenti che fai li hai a portata di mano inoltre per i moto viaggiatori comunque dà la possibilità con un euro al giorno di attivare una assicurazione che copre per gli infortuni gli infortuni all'estero diciamo infatti è proprio per questo visto che comunque viaggio spesso all'estero mi dico cavolo una copertura assicurativa in più ho deciso di farla appunto perché con un euro al giorno non è neanche tanto avete la possibilità appunto di di farvi un'assicurazione comunque sull'applicazione poi ci sono tante altre funzionalità che non andrò nello specifico ad esempio si possono comprare azioni di aziende americane quotate mi pare su un nasda che è un'altra borsa comunque mi dà appunto la possibilità prendo un conto a parte comunque sempre sull'applicazione di comprare azioni comunque ci sono veramente tante funzioni vi invito andare a vedere io appunto l'ho presa per le tre funzionalità che comunque servono un viaggiatore il cambio valuta l'assicurazione sugli infortuni e appunto ti permette di di vedere tutti i pagamenti ecco per ricaricarla è molto semplice infatti questa carta di credito è fornita sull'applicazione comunque avete il vostro iban della carta e voi tramite la vostra banca e o se ce l'avete non banking potete direttamente fare un bonifico comunque nei prossimi viaggi che farò in italia la proverò comunque cercherò di usarla diciamo anche per i pagamenti magari che faccio giornalmente appunto per vedere come mi trovo io penso che sia stato una scelta giusta per per andare a capo nord visto che comunque mi sono trovato un po male andare andorra con il banco ma così ho deciso appunto di di optare per una carta prepagata di nuova generazione diciamo che comunque attraverso poi l'applicazione si può fare un po tutto quindi niente io spero che sia stato sia stato per voi interessante vi ripeto questo sarà il primo video di di una playlist che appunto tratterà la preparazione per il viaggio a capo nord che farò a luglio dell'anno prossimo però già adesso mi sto un po comunque preparando e tutto e niente ragazzi io direi che vi saluto qua e vi invito a iscrivervi al canale se volete continuare a seguire questa playlist e niente vi ringrazio ancora di aver visto questo video e ciao ciao